poi se lo faccio così vado un po' avanti stai filmando? si sto filmando siamo un po' poca neve eh? si pochissima pochino pochina corpia assa però ci fermiamo qua perché la guida alpina ci disse è brutto il rischio 3 è già finito qua è stata un X2A ci si era mollato tutti comunque sono una guida alpina locale che esperta che che lo diamo in direzione di smettire comunque la neve a scendere deve essere fantastico si si adesso si aspetta una difesa in cui vi darai qualche lezione eh Paolo perché io cazzo eh grazie Paolo, torniamo a far farlo comunque questo eh ahah Elbrus, grande ciao ciao tutti, grazie